eccoci qua ragazzi ecco un altro video sull'impianto fotovoltaico allora mi è arrivato un altro pacco lo faccio vedere lo apriamo insieme cosa sono sono due fusibili riammabili da 30 ampere allora questi hanno una doppia funzione fanno sia da fusibile sia da stacca batteria perché vedete vedi si riarmano poche parole ne ho presi due perché uno lo metterò sul polo positivo della batteria e l'altro tra i regolatori di carica e il pannello per proteggere il pannello il regolatore di carica e la batteria ok sono belli grandi dal dal sito dimensione sembrava più piccola ma sono sono due belli bei fusi biloni ecco qua cioè l'ingresso e l'uscita per proteggere il nostro impianto della roulotte l'impianto fotovoltaico e la batteria questi sono molto utili e li consiglio un abbraccio a tutti e a presto un nuovo video sull'evoluzione dell'impianto fotovoltaico un abbraccio a tutti ciao e iscrivetevi al canale